bello ma che bello tutto bello colorato mi piace anche tu ce l'hai no io non ce l'ho ma anche il quaderno che l'ha ma c'è solo un robottino sì c'è solo questo ma le gambe come sono non ce l'ha le gambe aspetta ti faccio vedere perché qua dentro ci va qui aspetta vedi qua qua dentro qua dentro ci va il il pezzo che lo fa muovere poi invece delle gambe ha le rotelline vedi queste rotelline ma noi non ce l'abbiamo in ottene questo ce l'abbiamo questo robottino che vedi qui c'è un muto noi ce l'abbiamo uno fuori ce l'abbiamo un uomo vedi come è fatto lo vedo poco e questa è la faccia come noi eh sì sì solo che non ha il sorriso il vostro è più bello perché il vostro ha il sorriso e allora se ha il sorriso è più bello ma sì ma questi sono per fare i buttoni